Volevamo presentare tutta la squadra, qualcuno è impossibilizzato a venire perché si deve scordare la sorella e quindi la punta, solo sul canno su, quindi dei dolci per il regalo benissimo. Poi abbiamo imminente anche un matrimonio del nostro giocatore, un grande ragazza, Pino Mazzoli che è qui presente. Ma siete tutti invitati naturalmente, senza regalo. Poi la cosa che più mi fa piacere è questa, che Orani ha sempre risposto, nonostante l'anno scorso abbiamo avuto queste vicissitudini, dover lottare fino alla fine del campionato, ci hanno sostenuto ugualmente, quei pochi che c'erano ci hanno sostenuto ugualmente. Io non ci credo in queste cose, credo nel popolo, una resa espolutiva e leale. Io faccio intanto un bocca al lupo a tutti i giocatori, ai dirigenti e a chi vuole bene allorarmi e vi faccio un rinforzamento. Stefano Sicchi è degli anziani, non c'è perché sta facendo il livello del telefonato, sta facendo un corso a Roma quindi non può essere presente. Tore Loca non lo sto vedendo, sta vedendo, sta vedendo. Francesco Loca, e un grande Gino Fada, Pino Mazzoni, torni dove sei, vieni, vieni avanti, vieni qua, vieni qua, vieni, vieni avanti. E c'è un momento del piacere. Carlo Su è inversibilizzato il video, ce l'ho già detto prima, è giustificato, assente giustificato, un altro nuovo acquisto, Pirco Bianco, Antonio Pitui, Mauro Morinza è andato via perché è un torneo, Mario Carlo, il nostro portiere, Michele Fada, dove mi chiedo? Marco Bruttu, Alessandro Garza, non lo sto vedendo, 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 non lo sto vedendo. E me va anche dal dentista, ce l'abbiamo tutti. Paolo Mastio, Grupa Strudu, Francesco Busso, Raul Argiolas, Stefano Bertupi, Dario Cappelli, Mattia Sangiorgio, Simone Cate, Simone Pireca, Francesco Capoliglia, Dato Ia, con Priamo Secchi, avevano un torneo anche loro, Zichi Piermichella, Francesco Borreggio, Giusiri Giampaolo, è possibilizzato perché lo stia a Sassari, Claudio Molo, Riccardo Lugiu, e un rietto ritorno per Mario Fadda, mi fa troppo piacere, mi fa piacere, mi fa piacere, mi fa piacere, mi fa piacere, io ho portato personalmente con un dirigente nella persona di Torre Rocca, 32 lettere ed invito personalmente a tutti i ragazzi di Torre Rocca, mi fa piacere, mi fa piacere, mi fa piacere. Grazie.